un piccolo gioiello recuperato e l'affresco restaurato nella vecchia chiesa della confraternita dei raccomandati una settimana di eventi e gare si chiude domenica con la giornata del palio la 45esima edizione dell'ottava di sant'egidio umbria ricca di eventi li scopriamo come sempre con la redazione di avi news ben trovati ad un nuovo appuntamento con il tg magazine anche l'edizione di questa settimana è dedicata in gran parte agli eventi dell'ottava di sant'egidio nella giornata di venerdì è stato presentato al pubblico il restauro dell'affresco rinvenuto nelle vecchie cantine dell'ospedale che un tempo erano la sala riunioni e la chiesa della confraternita dei raccomandati alla presenza del prefetto dei rappresentanti della sovrintendenza della provincia di viterbo e del sindaco di orte si è svolta la conferenza di presentazione le storie della vita di job il nome con il quale è stato chiamato l'affresco è ora visitabile per essere ammirato nella sua bellezza ascoltiamo le interviste del nostro direttore gianni di felice con la sessore palesi per parlare di un altro tassello di grande storia che si aggiunge alla tanta già presente ricca qui ad orte sì oggi siamo per inaugurare l'affresco per nella storia di job è un affresco importante che è stato restaurato siamo qui con le più grandi autorità la sovrintendenza il prefetto per noi è un altro tassello importante per per la storia di orte è un momento importante in cui possiamo mostrare di nuovo un'altra bellezza del del nostro paese come abbiamo sempre detto orte è un paese pieno di storia e pieno di cultura e mano mano stanno uscendo fuori sempre grandi grandi opere da da mostrare ai turisti al pubblico dottoressa russo è un un affresco scoperto quasi per caso ma a quanto sembra molto importante che da che ricostruisce un bel pezzo anche della storia di orte devo dire questa sera inauguriamo questo restauro importante che ha condotto la sovrintendenza ora archeologia belle arti e paesaggio della varia metropolitana di roma della provincia di vita erbo e delle turi a meridionale e con grande perizia anche da parte degli storici dell'arte della nostra sovrintendenza e appunto un importante scoperta che aggiunge un tassello di storia della pittura dell'inizio del quattrocento e da una delle notizie delle informazioni importanti di questo periodo probabilmente gli autori sono di provenienza umbra e quindi è una possibilità da una serie di informazioni per ricostruire questo pezzo di storia di questo territorio di orte ecco sappiamo che l'affresco continua poi ma purtroppo è un c'è un muro che impedisce la la possibilità di scoprire ancora si potranno fare lavori per portarlo completamente alla luce beh l'impegno della sovrintendenza è proprio in questa direzione credo proprio che ne valga la pena e quindi i nostri sforzi saranno canalizzati proprio per raggiungere questo obiettivo dottoressa caporossi storica dell'arte abbiamo sentito poco fa la dottoressa russo che citava la scuola umbra del quattrocento quindi un di rilievo una scoperta di rilievo è una scoperta interessante perché prima del che iniziasse il cantiere gli affreschi erano uno stato che rendeva difficile la comprensione e l'attribuzione della della decorazione al termine del restauro possiamo tentare di avvicinare questi affreschi al tardo gotico dell'umbra dell'umbria meridionale e credo che probabilmente l'artista venga da una bottega di norcia e c'è una certa vicinanza ad un cantiere che il cantiere di sant'antonio abate a norcia sotto il profilo storico invece che cosa ci racconta questo affresco si tratta delle storie di job la narrazione delle prime sventure delle prime disgrazie che che capitano a job e la scena conclusiva rappresenta il la restituzione delle ricchezze delle prosperità job come si diceva anche prima probabilmente la metà del ciclo è ancora da scoprire ma probabilmente c'è dietro le pareti ecco perfetto qui ad orte è la prima volta che viene nella nostra città tra l'altro in una occasione abbastanza importante perché un fresco del quattrocento è stato riportato alla luce e sembra anche che sia di una certa rilevanza in generale che impressione le ha fatto altre ma guardi io sono veramente meravigliata chiaramente positivamente perché non ero mai stata ad orte e sempre sentito parlare delle della sua storia e questi pochi metri che ho fatto sono veramente motivo di di tanta positività ecco io sono molto contenta perché non non immaginavo che orte fosse così ricco di di spunti storici di questi angoli così caratteristici complimenti veramente ricca di storie tra l'altro ricca di storie adesso poi stiamo andiamo a vedere questa questo questa chicca che mi dicono ritrovata per caso e quindi volevo approfondire questo aspetto e noi ci auguriamo di averla presto come turista anche nel nostro mi auguro proprio di sì veramente veramente complimenti a voi di orte anche a queste iniziative storiche culturali gastronomiche angelo giuliano allora chiudiamo questa serie di interviste che abbiamo fatto con un commento su questo evento un'opera ancora che proviene dalle confraternite la vecchia chiesa dei raccomandati ha restituito questo affresco straordinario va bene le confraternite le confraternite sono un'istituzione storica di orte credo che questo le faccia onore tra l'altro il lustro dell'affresco adesso al di là delle valutazioni che non spettano a me che però mi dicono che sia di prima fattezza rappresentano appunto un motivo d'orgoglio un un gioiello in più a questo scrigno che piano piano si sta avrendo nel centro storico io mi auguro che nel prossimo futuro questa cosa possa ancora ampliarsi possono essere scoperte e messe in evidenza nuove bellezze per per la nostra per un nostro arricchimento culturale ma soprattutto anche per una promozione turistica abbiamo sentito questo questo evento di oggi aiuta aiuta abbiamo visto come personalità di primo piano sono interessate all'arte è piaciuto quindi questo potrebbe essere una spinta giusta secondo me per una giusta ripartenza per la promozione non solo nazionale ma anche fuori del nostro comune in questa settimana molte le iniziative e i giochi tra le contrade dal sito tevereventi leggiamo che la prima edizione dello giostrar degli borghi con le rappresentanze di amelia giove e soriano nel cimino ha visto vittoriosa orte attraverso la squadra della contrada porcini che aveva acquisito il diritto di partecipare come contrada vincitrice nella disfida tra le sette contrade la contrada di san sebastiano invece ha presentato un'interessante rassegna fotografica vediamo di cosa si tratta in occasione dell'ottava di sant'egidio la contrada san sebastiano ripropone dopo averlo presentato a san sebastiano in festa una cronistoria della nostra contrada con queste foto vogliamo ricordare tutti i nostri contagioli e che nel tempo hanno partecipato alla alla sfilata del corteo storico e durante qualche momento di festa sia incontrata che in giro per festeggiare le nostre vittorie anche se dal 75 al 2005 ne abbiamo solo ne abbiamo riportate soltanto 5 inoltre abbiamo voluto esporre una serie di poesie fatte da una nostra contrada iola che descrivono un po la contrada e le varie fasi del dell'allestimento delle e della contrada e qualche ricordo di orte in modo che si possa anche nel tempo avere dei riferimenti da san sebastiano a san biagio per scoprire le proposte in tema di gastronomia la contrada san biagio ha per quest'anno ha pensato di creare intorno alla propria taverna di contrada una piccola ambientazione e inventandosi questa sorta di cantina dove è possibile degustare un tagliere con dei prodotti rustici un buon bicchiere di vino e degustarlo sulla piazzetta prospicente proprio la taverna della contrada che è piazza pietralata e all'interno di questo locale che abbiamo recuperato abbiamo riproposto un ambiente rustico un ambiente che ricrea una sorta di clima più medievale nel sottosuolo della cantina c'è una piccola grotta nella quale abbiamo deciso di allestire con quelli che erano gli utensili tipici di una cantina un locale dove poter immaginare come veniva lavorata l'uva e quindi creato il vino invitiamo tutti quanti i cittadini di orte tutti quanti i visitatori che sono a orte in questi giorni a venirci a trovare con poco è possibile fare una piccola sosta breve mangiare in piedi su questa sorta di bancone oppure sui tavoli e sulle botti che abbiamo preparato sulla nostra piazzetta è possibile oltre al tagliere poter mangiare cartocci di patate di arrosticini di pecora o anche cuocersi direttamente da soli una salsiccia allo spietto sui piaceri che abbiamo messo nella piazza io sono qui che sto finendo di preparare il tagliere il tagliere che offriamo ai nostri contrataglioli a tutti i contrataglioli di orti ai turisti è una un'innovazione che abbiamo voluto fare che magari potrebbe essere il principio anche per le altre contrade di dare qualcosa di più a tutti coloro che vengono a orti in quest'ottava di sant'egidio le taverne sono ormai note e conosciute però preferivamo fare un qualcosa di di diverso soprattutto anche per un target più giovane perché magari offrendo un semplice tagliere anche un buon prezzo diciamo anche i ragazzi possono essere più invogliati a venire nelle taverne quindi alberto vi ha già detto tutto noi vi aspettiamo siamo aperti tutte le sere fino a luna di notte ci sono i bracieri fuori che sono già pronti per le salsicce e poi a che vinca lo migliore sempre dal sito tevereventi leggiamo che la croce rossa di orte ha partecipato alle operazioni di soccorso per il terremoto del 24 agosto scorso per i volontari della croce rossa in particolare per coloro che appartengono alle squadre arrivati sul posto i ragazzi di orte sono stati coordinati dal responsabile regionale e affiancati a squadre di vigili del fuoco e di soccorso alpino per le operazioni sul campo quando si tratta di una situazione del genere ci dice un volontario tornato dalle zone terremotate non ci sono impegni che tengano ciascuno di noi con una situazione lavorativa compatibile fa il possibile e anche l'impossibile per poter partire la diciassettesima edizione del trofeo delle sette contrade sarà ricordata per tanti elementi positivi primo fra tutti il nuovo record della gara fatto registrare da Daniel Ngueno il maratoneta keniano che ha corso 13 chilometri del tracciato in 40 primi 41 secondi un risultato importante giunto da un atleta di grande prestigio che da anni si afferma tra i migliori nella specialità al secondo posto il marocchino abderrafi rati terzo un altro keniano della libertà sorvieto kiplimo nur primo degli italiani è stato pasquale rutigliano dice kenia anche la classifica femminile con eunis shebe a poco meno di un minuto di ritardo si è presentata in piazza della libertà la vincitrice delle due edizioni precedenti silvia tamburi terza ancora una ragazza keniana beatrice keptu gli applausi più grandi sono stati per un corridore che quest'anno non ha partecipato salvatore polidoro classe 1930 che ha preso il via tutte le precedenti edizioni del trofeo delle sette contrade e che non è voluto mancare nemmeno quest'anno sebbene in veste di spettatore in segno di ringraziamento per i cittadini di orte che nel gennaio del 1944 lo aiutarono a ritornare a casa dopo essere stata vittima del rastrellamento delle ss tedesche in via nazionale a roma la cronaca ci racconta che giovedì scorso si è sfiorata la tragedia nel centro storico una donna straniera che si è accertato poi non in grado di parlare l'italiano visibilmente ubriaca e completamente nuda è stata trovata sanguinante fuori la sua abitazione la polizia locale a corsa sul posto ha constatato che la donna presentata presentava ferite in testa e nell'avambraccio i carabinieri intervenuti poco dopo hanno interrogato il convivente per ricostruire la dinamica dei fatti al momento non si esclude nessuna ipotesi sulla provenienza delle ferite la donna è stata trasportata all'ospedale belcolle di viterbo per le prime cure spostiamoci in umbria dove molte sono state le iniziative questa settimana dal via della cinquantesima edizione della mostra nazionale del cavallo a città di castello a cantina in centro passando per il raduno delle vespe 50 vediamo i contributi della redazione di avi news e tra le più antiche mostre rassegne e fiere di cavalli d'italia oltre che uno tra gli eventi simbolo di città di castello e punto di riferimento per il mondo equestre umbro e nazionale si tratta della mostra nazionale del cavallo che quest'anno porta in groppa la sua cinquantesima edizione alla fattoria autonoma tabacchi di cerbara dal 9 all'11 settembre in scena oltre 400 cavalli più di 200 espositori gare internazionali spettacoli equestri saloni del turismo rurale e dell'enogastronomia patrocinata dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la mostra anche quest'anno vede il sostegno della regione umbria in quanto considerata tra le manifestazioni che meglio rappresentano e promuovono il settore dell'allevamento e con esso il tessuto agricolo e produttivo regionale domenica 11 settembre il capoluogo umbro ospiterà il decimo raduno nazionale vespa il grifo salin vespa organizzato appunto dal vespa club perugia perugia e quindi è un'occasione che si ripete ormai per la decima volta per quanto riguarda il nazionale ma il vespa club perugia ha avuto anche l'occasione di organizzare raduni internazionali è un modo per noi per vivere in allegria la vespa che è una passione di molti di noi e anche per promuovere degli aspetti culturali in primis appunto la città di perugia il logo del nostro raduno è stato realizzato da un artista locale da una bravissima artista che è Alessia Tunesi che è abituata a lavorare con il cioccolato ma per noi ha fatto un'eccezione con un logo davvero bello con il grifo che sale in vespa e soprattutto c'è anche l'aspetto aggregativo che non è di poco conto perché comunque speriamo che l'ultima questo sole caliente di fine estate possa visto che domenica è previsto possa insomma dare la giusta cornice a questo evento. Cantina in centro, quest'evento che appunto si svolgerà nell'acropoli di Perugia un'occasione innanzitutto per promuovere le tante eccellenze anche nel campo enologico che ci sono nella nostra regione. Sì sono i primi passi, i secondi primi passi di un evento che ci auguriamo possa diventare grande. Riportiamo il vino di qualità dei piccoli produttori in centro a Perugia con la volontà di contribuire a farli conoscere non a venderli. Con Cantina in centro cerchiamo di far questo, lo facciamo in questi tre giorni venerdì, sabato e domenica prossimi. Dopo la novità accanto ai banchi di degustazione che riempiranno con discrezione via Mazzini e piazza Matteotti il concorso che è la prima edizione su vini passiti per dare virtù e dare valore a tutti i produttori che amano far appassire le loro uve per ottenere dei vini dolci con i quali chiudere un buon pasto. Ed ora colleghiamoci come di consueto con la redazione del trebimeteo.com per scoprire le previsioni meteorologiche di questo fine settimana. Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo, un'area di alta pressione presente sulla mitte l'Europa influenza il tempo anche in Italia che sarà con sole prevalente soprattutto al centro nord, ancora qualche equazione possibile sulla dorsale appenninica meridionale e su parte del centro. La situazione dal punto di vista termico è caratterizzata da temperature intorno superiori ai 30 gradi al nord e sull'alto versante tirrenico, mentre al centro-sud in concomitanza dei fenomeni le temperature saranno inferiori. Per il momento è tutto, vi invitiamo a restare aggiornati con noi in tempo reale su trebimeteo.com. Siamo quasi in conclusione e do lettura di un avviso che riguarda la sezione ARI di Terni, Associazione Radio Amatori Italiani, che organizza anche quest'anno un corso per il conseguimento della patente di radio operatore di stazioni di radio amatore. Il corso avrà una durata di circa sei mesi ed è gratuito. Per tutte le informazioni si può visitare il sito www.ariterni.it. Il TG Magazine si conclude qui, vi ricordo a seguire l'appuntamento con fatti e commenti. Ospite di questo numero è Rosvaldo Giubileo per parlare della rievocazione dei giochi storici. Vi diamo appuntamento alla giornata di domani per il Palio e il corteo storico. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti.